Il Meteo è presentato da... Vuoi ristrutturare la tua casa? Oggi hai la soluzione ideale! Vieni da Infinity Colors! Set trapano avvitatore con percussione e avvitatore ad impulsi Super Promo 229€ Smerigliatrice potenza 900W Super Promo 38€ Effetto sabbia Creative Desert Stone 27€ Disponibile varie colorazioni Infinity Colors In via Perpignano 247 a Palermo Benvenuti a Meteo Med Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque Nello specifico sul litorale Tirrenico, sull'Appennino e zone interne Cieli in preferenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata Sul litorale Ionico, cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rastrenamenti dalla tarda mattinata Fino a cieli sereni o poco nuvolosi Sul litorale Meridionale, cieli in preferenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata Venti moderati dai quadranti sud orientali La temperatura massima registrata sarà di 30 gradi E' la minima di 18, ma remosso nessun all'arte a meteo presente Grazie per averci seguito e alla prossima edizione Il meteo è stato presentato da Vuoi ristrutturare la tua casa? Oggi hai la soluzione ideale Vieni da Infinity Colors Ferroli climatizzatore inverter Wi-Fi Alexa Google Home 349 euro Guaina a rotoli A partire da 42,90 euro Idropittura super lavabile 14 litri 37 euro Infinity Colors In via Perpignano 247 a Palermo